La fiera di Pasqua a Como si farà dietro fronte del comune che nei giorni scorsi aveva deciso di annullare l'evento. Questa mattina a Palazzo Cernezzi l'assessore al commercio Marco Butti assieme all'assessore alla sicurezza Elena Negretti hanno incontrato le associazioni del territorio per fare il punto della situazione e dunque rivedere la decisione presa. Vittoria degli operatori e soprattutto dei comaschi, la fiera di Pasqua a Como si farà. È il commento che arriva dal direttore di Confeser Centicomo Angelo Basilico al termine dell'incontro. La fiera si svolgerà come da regolamento in via Levarese, spiega l'assessore Butti. Abbiamo predisposto anche un piano per la sicurezza che svolgeremo in collaborazione con gli operatori. A breve, inoltre, uscirà il bando per permettere la partecipazione degli operatori alla fiera di Pasqua. Poi aggiunge, è stato ridotto del 50% il canone di occupazione del suolo pubblico. La revisione della posizione da parte del comune di Como, che nei giorni scorsi invece aveva annunciato la soppressione della manifestazione, verrà formalizzata nelle prossime ore. Ad accompagnare la fiera, come detto, un piano di safe and security. Tra le misure che potrebbero scattare per permettere lo svolgimento dell'evento in sicurezza e in base anche all'evoluzione della situazione pandemica, sarà valutata la possibilità di attuare dei sensi unici direzionali. Grazie a tutti.